Grazie a tutti. Abbiamo sempre fatto come abbiamo previsto. Io chiedo scusa a tutti, sia a quelli che erano in coda per entrare e che poi magari hanno avuto difficoltà e altri che invece secondo il criterio erano usciti e poi non hanno trovato posto. Chiedo scusa, noi abbiamo fatto il possibile per cercare di accontentare tutti, qualche volta purtroppo non ce la facciamo come speravamo, però Aldo ha finito, è stato un intervento piacevole e interessante, ma adesso abbiamo Massimo Gramellini. Buongiorno a tutti, buona mattinata a tutti. Allora l'idea dell'incontro con Massimo derivava un po' da quello che lui ci... Non si sente? Si sente? Vediamo un po'... Aspettate, in fondo, in coda dicono che... Io sento solo la risacca qua. Va meglio? Sì? Così? Va bene? Ok. Allora, come me, centinaia di migliaia di persone al mattino, beh, tra la carta, il web, Facebook, eccetera, iniziano la mattina col caffè, ma oltre al caffè che tutti conosciamo c'è un altro che apre la nostra giornata, ed è il caffè di Massimo Gramellini nella prima pagina del Corriere. E allora, visto che la domenica è un giorno apparentemente di riposo, nel senso che c'è una rubrica di Aldo Grasso, e quindi Massimo, in teoria, non ci offre il caffè, allora gli ho proposto di fare il caffè qui con noi, con tutti voi, e quindi faremo stamattina un caffè. Allora, partiamo... Ti devo rivelare, che, intanto buongiorno di nuovo a tutti, che il nome il caffè, che tra l'altro non si sente, qual è il problema? Con chi ce l'avete? Cosa succede? Ah, perché? C'è un posto qui in prima fila, dai. Ok, finito. Vai Massimo! Io... Facciamo così. Va bene. No, dicevo, il caffè, l'idea del caffè, quando sono arrivato al Corriere, si doveva trovare un nome diverso dal Buongiorno, che era il nome del corsivo sulla stampa, e io avevo in mente il Corrierino, che era un'allusione, diciamo, per i più anziani, al Corrierino dei piccoli, però effettivamente era un po' troppo cerebrale. E il titolo me lo ha dato Fazio, perché un giorno ero nella redazione comune del mio programma e del suo, cioè, che tempo che fa, e lo vedo che prende degli appunti su un foglio e mi dice, guarda, forse ho trovato il nome per la tua rubrica, il caffè. Però noi l'avevamo pensato, il caffè come omaggio, intanto alla rivista di Verri, no? La storica rivista dell'illuminismo. E poi il caffè proprio come luogo, come luogo di incontro, di dibattito. Invece mi rendo conto che ormai tutti diciamo il bar e nessuno dice più vado al caffè. Però il caffè, prima ancora che la tazzina, è proprio l'idea di un luogo in cui non c'è soltanto uno che parla, ma c'è una comunità che cerca di ritrovarsi. Come lo scegli il tuo caffè al mattino? Al mattino o la sera, dici? Sì, ma loro non sanno che tu, cioè loro pensano che tu in diretta praticamente. No, è una cosa che ti dà, io ormai sono 18 anni che scrivo un corsivo di prima pagina, è una cosa che ti dà un'enorme visibilità e popolarità, perché chiaramente essendo un pezzo breve in prima pagina tutti lo leggono, o comunque tutti cominciano a leggerlo, perché non so come siete voi con i giornali, ma io quando trovo una grande inchiesta, un bellissimo racconto di due pagine, cosa faccio? Lo strappo dal giornale, dico stasera quando ho tempo me lo leggo e ho il cassetto pieno di pezzi che non ho mai letto. Invece le venti righe, almeno un'occhiata, almeno le prime cinque per vedere di cosa parla, le guardi. Il problema è che ti sconvolge la vita, cioè tu non hai più una vita normale, nel senso che io non riesco, cioè non so più cosa vuol dire andare a una cena alle otto di sera, alle nove, perché comunque tu non sai a che ora troverai l'idea, quindi anche quando ti invitano a cena, o peggio quando devi fare una conferenza, non puoi garantire un orario, perché c'è la sera che finisce alle otto, c'è la sera, tipo l'altra sera, che ho consegnato il pezzo alle undici meno un quarto, però diciamo che prima delle cinque del pomeriggio è materialmente impossibile sceglierlo, perché essendo un pezzo di prima pagina deve essere chiaramente legato all'attualità. E avendo un titolo, a differenza della rubrica di Serra su Repubblica, che non ha un titolo e quindi sa più di diario, cioè Michele può parlare anche di quello che gli è successo a lui quel giorno, io no, io devo avere comunque un riferimento alla giornata, e quindi devo aspettare che la giornata porti delle cose. E poi sicuramente la difficoltà consiste nella scrittura, nel senso che da me non vogliono, i lettori non vogliono la scrittura classica dell'editoriale, cioè deve essere uno stile di scrittura che non può essere mai piano come quello di un editoriale, c'è un ragionamento, deve essere un'emozione, quindi o deve far piangere o deve far ridere. Se non fa piangere, non fa ridere, non è un buon caffè, diciamo. Ma ti è mai riuscito di fare un pezzo per cui volevi far piangere e far ridere e il contrario? Vabbè, mi succede spesso, succede molto spesso. Succede spesso, guarda, quello che succede è di essere equivocati, specialmente quando fai dell'ironia, perché il nostro è un paese di comici, non è un paese di umoristi, cioè il tono ironico, cioè il mezzotono, non è un tono italiano, l'italiano è quello della torta in faccia, è quello della comicità, anche in televisione, no? Quelli che hanno successo sono i comici. Io in televisione lavoro con una bravissima comica, Geppi è una comica, no? Geppi Cucciari, e da noi funzionano i comici, gli umoristi sono una cosa diversa, gli umoristi usano il mezzotono, è molto british, no? Ed è molto spesso chi ti legge e dice ma questo sta dicendo sul serio oppure no? E quindi questo crea molti equivochi. L'altra cosa che succede incredibile è che ogni volta che tu critichi qualcuno l'intera categoria, cioè io ieri ho fatto un pezzo in cui ironizzavo su alcuni studenti di un gioco televisivo che non sapevano nemmeno dire chi era Napoleone, lo chiamavano Giovanni Napoleone, pensando che Napoleone fosse il cognome, e ho ricevuto delle lettere offesissime di studenti che fanno lei ha offeso la scuola, ma no, ma cioè come se tu adesso mi dicessi che io sono un cretino e ti dicessi hai offeso il giornalismo italiano, hai offeso me, non il giornalismo italiano. E siamo un paese di enormi, come si può dire, di persone che hanno un estrema senso del proprio ruolo, siamo molto facili all'offesa, ci offendiamo molto facilmente. E questa è un'altra prova che non abbiamo senso dell'ironia, quindi tantomeno senso dell'autoironia. La cosa che mi colpisce molto, ma non perché Massimo è qui, però la sua capacità di scrivere, inonizzare, farci del sarcasmo, insomma con le sue, sul suo tono molto acuto, su argomenti, diciamo politici, razzi che va in Corea del Nord, fascisti su Sirte, eccetera, e altrettanta capacità di approfondire, toccare anche emotivamente, delle corde importanti sulle cose come Pago Bancomat, Mai Dire Buondì, cioè non è facile riuscire a cogliere in temi così diversi, quasi contrapposti, il vero senso della notizia. Sono due generi diversi. Noi dovete sapere che fino a qualche anno fa nei giornali vivevamo bene, perché a differenza della TV, dove ogni mattina del giorno dopo, alle dieci suonano le trombe del giudizio, perché arriva l'SMS della produzione che ti dice l'ascolto che hai fatto, e quindi le dieci del mattino dopo è il momento per tutti quelli che fanno televisione della verità. Sul giornale non avevamo nessun conteggio, adesso invece con il web abbiamo anche lì i click che ci dicono il giorno dopo quanto un pezzo ha funzionato, almeno su internet. E la cosa di cui mi accorgo io è che ogni volta che scrivo un pezzo di politica ricevo una quantità enorme di messaggini dai miei colleghi, dai politici, dai potenti in genere, dagli editori, da tutto, e il pezzo è pochissimo letto. Ogni volta che parlo della vita reale succede esattamente il contrario. Il simbolo dell'uomo di potere in Italia, della giornalista di potere, cioè Giuliano Ferrara, una volta ha scritto di me, era un pezzo in cui voleva parlare di Saviano, ma mi ha messo dentro, dice Saviano è il nulla, Gramellini è il nulla carino. Per dire che scrivo bene, ma scrivo... E io vorrei rispondere, no, io poi non rispondo mai a nessuno, ma nel caso direi, quel nulla si chiama vita, è la vita, cioè la vita, parlare della scuola, della sanità, dell'amore, sono i temi della vita delle persone. Parlare dei sottosegretari non è la vita, è la loro vita, la vita di 10.000 persone in Italia avvitate su quegli argomenti e pensano che purtroppo la mia categoria è stata in qualche maniera condizionata, perché nel mio mestiere i colleghi, molti colleghi di straordinario talento, che avrebbero potuto diventare degli stupendi cronisti, hanno invece preferito poi magari darsi alla cronaca politica, perché la cronaca politica ti fa fare più carriera, ti fa comunque, ti metti in quel gruppo, per cui se tu fai un programma in televisione che parla di politica, sui giornali parlano di te, mentre magari Lasciarelli, che da anni fa un programma di straordinario successo, ha molte meno citazioni della Gruber, sono due giornaliste di grandissimo livello entrambe, però quella che si occupa di politica ovviamente ha più riscontri, perché è quel mondo affascinato dal potere, dal gioco del potere. A me invece continuo ad affascinare di più la vita, quindi io sono più affascinato dalla storia, appunto dalla sentenza, dove un papà viene condannato a dare gli alimenti alla figlia del 26enne che non lavora e non studia, piuttosto che dal sapere se sarà Di Maio o Di Battista il candidato premier dei Cinque Stelle, cioè è così, cioè io penso che, e in questo caso ti accorgi che c'è un divario nettissimo fra la gente, penso quelli di voi che siete qua, e la classe dirigente, perché appunto quei pezzi di altro genere non mi commenta mai nessuno, in compenso sono letti cento volte di più. Io allora confesso, lui lo sa perché, che sono uno di quelli che spesso e volentieri gli mando un messaggino, io quando leggo una cosa che mi riempie di gioia, di curiosità, di piacere, ho la fortuna di conoscerlo personalmente, di poter dialogare con lui, gli dico, mi hai riempito, mi hai aperto la giornata con grande felicità e intelligenza, ma a parte questa confessione personale, facciamo piccolo gioco, facciamo un caffè, scegliamo... Magari, sto cadendo dal sonno, facciamolo, chi me lo porta? Facciamo scegliere al massimo una notizia, no? e invece di essere la sera di sabato, siamo la mattina di domenica, probabilmente non lo devi scrivere domani perché oggi succederanno altre cose. Beh, vogliamo fare un caffè corrosivo? Cioè, vogliamo dire che mi stupisco che ci si stupisca che qualcuno delle forze dell'ordine possa aver fatto quello che è successo la vicenda... Cioè, ogni tanto mi sembra che siamo un paese che si sorprende dell'obvio, cioè, tutti sappiamo che di fronte anche lì a una sterminata massa di persone che fanno bene il loro mestiere in tutte le attività, cioè, anche tra le forze dell'ordine sappiamo benissimo che ci sono anche lì delle figure che fanno cose... Sappiamo che ci sono dei finanzieri che vanno al ristorante e non pagano perché poi magari non vanno a dare un'occhiata alla cosa del ristoratore, alla sua... alle sue scontrini. Cioè, e l'Italia è fatta in questo modo, lo sappiamo. ed è incredibile che ogni volta ci sorprendiamo del fatto che chi ha un potere, specie se il suo potere non è, diciamo così, sostenuto da uno stipendio adeguato, cioè, la cosa che io trovo abbastanza strana è che noi attribuiamo in Italia molto potere, adesso non è il caso di questi due carabiniere, intendiamoci qui, parliamo di un caso estremo, ma il caso estremo ha portato, diciamo, sul giornale il tema. Però noi, nell'amministrazione pubblica, a tutti i livelli, diamo molto potere a persone che hanno bassi stipendi e quindi li rendiamo molto più attraente per queste persone utilizzare il loro potere per trarne un beneficio, anche perché si sa che in questo paese c'è una quasi certezza dell'incertezza della pena, quindi sai che tu puoi usare senza rischiare troppo. Io per questo che sarei, lo so di dire una cosa contro tendenza, ma io sono per pagare molto di più i dipendenti pubblici. dopodiché se fanno qualcosa che non va in galera, però gli devi pagare meglio, cioè bisognerebbe avere più rispetto dello Stato. Io penso al dibattito, cioè io non trovo giusto che ad esempio il direttore generale della RAI deve stare a dentro i 240 mila euro, che voi dite è uno stipendio enorme, ma i suoi pari grado nella tv privata o in altre aziende che hanno sicuramente meno peso della RAI guadagnano 20 volte di più. Allora, o ridistribuiamo tutti gli stipendi in basso, ma questa è un'ideologia che appartiene al passato, oppure dobbiamo accettare l'idea che se vogliamo uno Stato che funzioni dobbiamo anche dare a chi se ne occupa i mezzi e rendere competitivo. Cioè, Marcon è un grande manager, ma difficilmente andrà a lavorare in un'azienda pubblica se non per fare beneficenza, perché non potrebbe avere gli stipendi paragonabili a quelle che ha. Invece noi abbiamo talmente disprezzo dello Stato che pensiamo che chi lavora per il pubblico debba guadagnare poco, perché noi pensiamo che lo Stato è una cosa di... siamo noi stessi ad attribuire allo Stato un valore di serie B, mentre io penso che lo Stato sia più importante delle aziende private, sia la prima azienda ed è l'azienda di cui tutti noi siamo soci, tra l'altro, perché pagando le tasse noi siamo i padroni di quell'azienda e dovrebbe funzionare bene. Io dico sempre che noi non abbiamo senso dello Stato perché è lo Stato che ci fa senso e questo è il problema dell'Italia. No, ma guardate, non è una battuta, cioè lo è, ma è la verità. Ed anche tu lo sai, se tu... Guarda, vi racconto un aneddoto. Un giorno ero a Londra e mi è successo di buttare, forse potrei dire che mi è cascata, in realtà, insomma, un pezzo di carta fuori da un cestino. Mi sento toccare sulla spada. Hey, man! Mi giro e vedo tutto un tipo con le borchie, i tatuaggi, deve essere un hooligan che mi fa segno come dire era un parco, era Hyde Park, quella roba lì in the busk, dentro il cestino. E io ho pensato perché questo buzzurrone, però lui si sentiva in quel momento un cittadino inglese, quello era un parco pubblico, quindi era casa sua. Noi invece siamo esattamente all'opposto. Se tu fai notare uno in un parco che butta per te e lo dice e che vuoi da me? Tanto ci saranno gli spazzini, no? E questa idea che lo Stato non è di tutti, ma lo Stato è di nessuno, quindi non è neanche nostro. Quindi è per questo che da noi, per esempio, l'evasione fiscale è così alta, perché non c'è discredito sociale. Cioè, per un italiano uno che va a rubare in un negozio con la pistola è un delinquente da mettere in carcere. Uno che va delle tasse rubando il doppio è uno furbo, ma ha rubato a te, ha rubato a te, perché quei soldi li servivano al tuo ospedale, alla tua scuola, te li ha rubati, ma non c'è, io non ho mai visto la gente incazzarsi per questa cosa. È incredibile. È solo qua, è solo qua. Anche lì, io per esempio, quando sarà il grande tema delle prossime campagne elettorali, campagne elettorali saranno due i temi, chiaramente, i migranti e il tema delle tasse. Allora, la flat tax, io poi non so se tecnicamente si possa, ma sul fatto che si debbano ridurre le tasse in Italia penso che siamo tutti d'accordo, anche perché chiunque fa impresa privata sembra quasi che faccia un danno, cioè viene punito, viene perseguito per il fatto di osare fare un'impresa e quindi bisogna chiaramente ridurre le tasse anche per mettere più soldi nelle tasche della gente, altrimenti l'economia non riparte. Però, io dico, abbassiamo le tasse, però a quel punto chi non le paga, vi ricordate Berlusconi diceva moralmente il 33% è un livello che uno accetta, oltre al 33% è troppo. Ok, allora abbassiamolo al 33% se riusciamo a tenere in piedi la baracca, però poi a quel punto chi non paga il 33%, come in America, va in galera, come in America, va in galera, qua in questo paese quanti sono in carcere per evasione fiscale? Ma un gruppo, molto meno, cioè, meno di quelli che rubano le mele nei supermercati. Qualche estracomunitario, sicuramente. Perché, ripeto, non c'è discredito sociale rispetto a questa cosa, mentre invece all'estero, questa è la principale differenza dall'Italia, chi va delle tasse è considerato proprio un delinquente, come uno che va a rubare, uguale. non si può non essere d'accordo. C'era una cosa... Vedi, però, quando si parla di questo... No, scusa, mi fai fare un inciso, mi viene in mente la vostra... Vi faccio sorridere per dire come siamo anche noi italiani, perché noi diciamo sempre la classe dirigente, il potere, la casta, come se la casta fosse diversa da noi. Sono come noi, hanno fatto le nostre scuole, sono cresciuti nelle nostre famiglie, quindi sono semplicemente la versione distorta, dilatata dal potere di quello che siamo noi tutti. Ora, vi racconto quest'aneddoto. Tantissimi anni fa vado a seguire per la stampa un comizio di Michele Santoro, candidato all'Europarlamento. E Michele fa questo comizio in una piazza affollatissima, erano gli anni di Berlusconi al governo, c'era Bush in America, e comincia dicendo basta con questo Bush, contro le guerre di Bush, boato della folla, tutta una folla di sinistra, di gente su progressisti, ovviamente difesa degli immigrati, applausi difesa degli immigrati, attacco a Berlusconi, applausi. Ora lui, sullo slancio, dice una cosa sacrosanta, si sente autorizzato, e poi basta con questa cosa del lavoro ereditario, perché in questo paese è ora di finirla con questa cosa per cui i posti sono precari solo per chi non ha la fortuna di avere un parente che gli lascia il suo, basta con questi notai che fanno lavorare il figlio in studio, basta con i tabaccai che lasciano la tabaccheria al figlio, gelo, non c'è stato un più, lui si guarda, come dire, cosa ho sbagliato, hai sbagliato che questa è l'Italia, benvenuto in Italia. una cosa di un altro genere, così almeno è, non c'è stata ieri la partita Sampdoria-Roma, uno pensa, ma per il maltempo, ma in realtà forse... Questo è un paese di dietrologi, io odio la dietrologia tranne che sul calcio, ovviamente, quindi, come ti ho già detto prima, poiché domenica prossima c'è Torino-Sampdoria, è stato chiaramente un complotto dei Sampdoriani per riposare ieri sera e presentare... No, perché tra l'altro la pioggia, chiaramente anche lì, mossa dai meteorologi Sampdoriani, oggi ci sarà il diluvio a Benevento dove gioca il Torino, quindi bisognava sospendere Benevento. Io oggi voglio che non si giochi Benevento-Torino, Benevento che è un luogo notoriamente del nord Europa dove il clima è etre, non si deve giocare, noi dobbiamo riposarci per questa super sfida. Vabbè, se sentiremo Urbano Cairo che siccome è padrone del Torino e anche del Corriere questo conflitto di interessi vediamo come... Senti, tu ti occupi spesso nei tuoi caffè dei giovani, giovani, quelli intelligenti, capaci che inventano qualcosa, quelli invece che fanno le fake news, quelli che usano in modo distorto i social network e quelli che si impegnano. Come li vedi i giochi di oggi? Perché è un punto di osservazione e anche di analisi il tuo, molto importante, sei un po' a un riferimento di come la società oggi si rivolge e guarda i ragazzi. Come si dice in televisione, ti ringrazio di questa domanda perché mi permette di dire una cosa a cui tengo molto. Ogni volta che io scrivo un pezzo in cui dico che i ragazzi di oggi sono sfruttati, che questo fenomeno degli stage, di questi contratti depotenziati, perché la lingua italiana consente questi giochi di parole per dire che noi praticamente per far risparmiare le aziende e abbattere il costo del lavoro la generazione fra i 20 e i 35 anni lavora gratis in cambio di niente, di fa curriculum, ecco, ogni volta che lo scrivo immancabilmente mi arriva la lettera del pensionato, cioè anche alla mia, anche io ho fatto così, non è uguale a 50 anni fa, non è uguale a 50 anni fa, non è uguale, il mondo è cambiato, questo capitalismo non è quel capitalismo, questo è un capitalismo terminale che sta andando a esplodere perché sta abolendo i consumatori, cioè se tu non paghi gli stipendi chi compra le cose che tu fai? Nessuno, quindi è un sistema che sta implodendo, per fame di denaro di pochi azionisti che per quanto, insomma io ho sentito un discorso di Marchionne ferocissimo contro gli azionisti di tutto il mondo, dicendo c'è un 1%, lui da manager miliardario, però diceva questo sistema sta impazzendo, stiamo abolendo, cioè chi mi comprerà le panda in futuro? La Ferrari sì perché lo sciicco lo trovo sempre ma le panda ho bisogno di un ceto medio, noi stiamo distruggendo il ceto medio, abbattendo gli stipendi, non si può, io non faccio che incontrare ragazzi che lavorano 8-10 ore al giorno senza percepire uno stipendio, in trasmissione l'anno scorso in televisione ho invitato quel fenomeno allucinante degli scontrinisti, cioè alla biblioteca di Roma che è la principale biblioteca italiana, il principale tempio culturale, italiano, la biblioteca nazionale di Roma. Ebbene, questi ragazzi lavorano a tempo pieno, a tempo pieno, a tempo parziale, ma lavorano continuativamente, svolgendo quindi lavoro a contatto col pubblico e vengono pagati 300 euro o alcuni 400, non direttamente, ma previa presentazione di scontrini che spesso vanno a rovistare addirittura nei cestini per trovarli e hanno 32, 33, 34 anni. Allora, qui bisogna uscire da un alibi e dirlo una volta per tutte. La risposta che mi dicono i manager è che il problema è che tutto questo sfruttamento attiene a lavori legati alle facoltà umanistiche, perché non c'è più lavoro per chi si laurea in lettere, in scienze politiche. I lavori, i posti ci sono e non vengono tutti coperti, ma soltanto nelle facoltà scientifiche. Ora, o stabiliamo per legge davvero, ma duramente un numero chiuso e diciamo ragazzi, purtroppo, per ragioni di lavoro non possiamo più laureare la gente in quelle facoltà, perché produciamo soltanto non dei disoccupati, degli sfruttati, ma oppure bisogna trovare una soluzione, ma vi sembra normale, ripeto, che la prima biblioteca italiana paghi i suoi dipendenti 300 euro attraverso una cooperativa con gli scontrini, ma questo ma neanche nel terzo mondo, cioè questa roba dovrebbe scandalizzarci e non è vero che una volta era diverso, perché una volta tu entravi in uno studio professionale, lavoravi tre anni pagato due lire o magari niente, ma poi in prospettiva sapevi che avresti guadagnato benissimo. Adesso tu vedi in certi studi da avvocato o da commercialista dei quarantenni che ancora sono pagati i 600 euro al mese, ma voglio dire, ma da dove possiamo immaginare di rialzare questo paese noi non siamo ancora collassati, vorrei fare un caffè troppo agitato, ma non siamo collassati perché semplicemente campiamo ancora sui risparmi dei nonni, cioè la generazione dei nonni proprietaria di case e mantiene, mantiene, cioè per dirla così, i soldi che i nonni avrebbero voluto lasciare ai figli li stanno già usando per mantenere i nipoti, ma quando questo circuito finirà noi veramente rischiamo, cioè qui bisogna ricominciare a immaginare un sistema diverso, per quello che io dico proviamo abbattendo le tasse, troviamo però così non funziona più, cioè è un sistema che non funziona, non si può andare avanti semplicemente e poi diciamoci la verità, c'è un serio problema di innovazione perché certo da vent'anni a questa parte le aziende in Italia hanno come unico mantra quello di dire riduciamo il costo del lavoro, ok, e questo con i risultati che ho appena detto, perché una parte sono sprechi che poi sui giornali finiscono anche quello che va che strisce il badge, tutto vero, una parte l'ho appena detto è sfruttamento, però c'è anche da dire una cosa, ma l'innovazione dove? Cioè dove sono le aziende nuove? Cioè io ho in tasca un telefonino come tutti voi e non mi pare che ci sia un italiano che ha inventato una cosa, un nuovo oggetto tecnologico, cioè noi non riusciamo più a produrre veramente cose, l'unico campo in cui siamo di estremo, a parte delle nicchie molto specifiche, mi dicevano che anche in campo dell'artigianato stiamo perdendo dei colpi. Allora, io quello che vorrei della politica, ma naturalmente è un discorso assurdo perché non hanno la testa per farlo, non hanno una visione da statisti, nessuno, sarebbe una visione di che cosa vogliamo che sia l'Italia fra trent'anni. vogliamo fare dell'Italia il polo del turismo mondiale, il luogo del benessere dei ricchi di tutto il mondo, ok, è una scelta, ma allora facciamola e facciamo una politica che, non so, per dire, creiamo delle situazioni per cui tutti i giovani che vanno a bonificare delle zone brutte e ci fanno degli agriturismi li detassiamo per dieci anni, cioè facciamo una politica volta a questi obiettivi. Invece noi continuiamo a vivere alla giornata buttando delle polpette agli elettori per accontentarli è il migrante, è gli 80 euro, tutti cosettine, ma non c'è mai una strategia, cioè Renzi ha fallito, Renzi che, insomma, io li conosco tutti e sicuramente più o meno tutti e sicuramente a livello di qualità tecniche il politico più bravo che abbiamo detto, cioè il più bravo come politico, è un politico, cioè quella cosa che sa fare alla politica, però dov'è che ha sbagliato e dov'è che ha perso? Ha perso perché a un certo punto non è riuscito ad avere una grande visione, ha mantenuto quella logica un po' democristiana del baratto, della cosa immediata, qui c'è bisogno di nuovo invece di gente che abbia visione, che immagini, cioè in Danimarca l'anno scorso il Parlamento danese ha approvato il piano ambientale per il 2060, ma vi rendete conto? Cioè quella è gente che sta già progettando quello che dovrà succedere tra 40 anni e noi qua non sappiamo nemmeno ancora la finanziaria di quest'anno, cosa ci sarà dentro, cosa sarà fuori, cioè non si può sempre solo improvvisare, noi siamo i geni dell'improvvisazione, però la storia di questo paese è la storia di un'economia che si è sempre sviluppata contro la politica, all'insaputa della politica, nei rivoli lasciati liberi dalla politica. il giorno in cui la politica, cioè il governo invece si affiancasse ai cittadini indicando un progetto, allora forse quel giorno possiamo diventare un paese che ha un senso a livello internazionale, perché così purtroppo restiamo poca roba, siamo sempre, poi no, ma non c'è da applaudire, non c'è da applaudire. Mi applauso, ma io lo voterei Massimo, questo è l'errore, pensare che uno che dice le cose giuste poi saprebbe risolverle, perché i nostri politici vanno in televisione e dicono è una vergogna che ci siano troppi migranti, e tutti ah bravo applausi, sì ho capito, ma Luca Faccio anch'io dirlo, e quindi cosa fai? Perché anche lì se vogliamo quello è un altro tema dove tutti, cioè il tema è che nessuno ha le ricette semplici, cioè anche lì è facile risolvere il problema dei migranti, allora c'è una migrazione mondiale, c'è un fenomeno globale, la storia umana è piena di migrazioni, di popoli che si spostano in cerche di altri temi, qui c'è un problema fondamentale, c'è un continente che non fa più figli, che non fa più figli, che non fa più figli, e questo è il tema dei temi dei temi, e noi non ne parliamo mai, non si fanno più i figli, quando vedi una culla per strada la gente si ferma come se fosse Vasco Rossi, un divo del rock, un bambino, c'è un bambino, cioè non facciamo più bambini, però questa cosa a noi non ci interessa, dobbiamo come fosse una cosa normale, anche come una conquista di civiltà, mentre ci sono altre parti del mondo dove ne fanno tantissimi, e questi e ci vengono, e questi tentano ovviamente di andare in una condizione di vita migliore, non la trovano, ma probabilmente da dove loro partono, invece, quello che a noi, cioè, credono di poterla, di poterla ottenere. A questo punto, diciamoci la verità, è giusto fare una politica di selezione, io sono per l'idea che l'immigrazione vada governata nei limiti del possibile, perché governare una cosa, un fenomeno migratorio è un'impresa incredibile, però, non possiamo neanche lì essere ipocriti, no? Cioè, dobbiamo renderci conto che se non vengono più da noi, non è che sono andati in California, se non vengono più da noi vuol dire che stanno dentro un lager, quindi noi sappiamo che adesso non arrivano più da noi, però sono in un lager, e noi non li vediamo e non ci pensiamo, no? Però è così, dopodiché mi rendo benissimo conto che in un sistema come il nostro, dove c'è molta sofferenza, l'abbiamo appena detto, è chiaro che l'italiano impoverito dice, a me non, per carità, per poter fare della, sentirmi generoso, la generosità è un lusso per benestanti, no? E quindi dicono, tu che sei, al politico, tu radical chic che vivi in centro, che stai bene, ti puoi commuovere per il migrante, ma io che vivo in periferia e il migrante me lo vedo sotto casa che spaccia, io non sono, non posso essere generoso perché devo pensare prima a me e la parola chiave delle prossime elezioni che io prevedo vincerà il centro-destra sarà proprio questa, prima noi, prima gli italiani, poi si avanza gli altri, questa sarà la vera battaglia e oggi questo è il pensiero dominante nel paese, è molto difficile ragionare in un modo un po' più aperto perché ripeto c'è l'impoverimento collettivo sta aumentando anche questa rabbia che poi è una rabbia cupa, non è una rabbia che esplode per fortuna in atti, però esplode in questo essere tutti tutti sempre un po' prima i forconi, no? poi il movimento c'è questo malessere si dice sempre la paura percepita, no? e tu poi vai in giro e dici guardate che ci sono meno omicidi di dieci anni fa ma la gente non ha questa percezione perché comunque vive male, non è felice, non ha più sicurezza, ma voi non so se vi rendete conto ma per la nostra generazione allora io vi dico io ho perso la mamma da bambino ma ho fatto in tempo a conoscerla mia mamma era una cultrice come Checco Zalone del posto fisso cioè mia mamma era, pensava che di tutti i suoi fratelli che avevano fatti tutti gli imprenditori contro la sua volontà con lei disperata di avere questi fratelli che si licenziavano dal posto fisso per tentare per lei uno dei suoi fratelli quello che invece era rimasto a fare il custode al museo egizio era il suo modello di vita perché diceva quello è quello che ha fatto la scelta giusta non come quei disperati che sono andati ad aprire un'impresa perché questa era la mentalità dell'italiano era una mentalità per cui io ho degli amici che vivono ancora nello stesso quartiere addirittura nello stesso isolato dove sono nati quando si sono sposati sono andati a stare a 200 metri da casa della mamma oggi il modello americano che abbiamo importato anche come vedete ormai anche negli uragani stiamo importando il modello americano e fa sì che oggi tutto è precario tutto cambia di continuo ma questo pensate che non abbia un effetto sulla psiche cioè il non sapere io ogni tanto parlo con dei ragazzi di 28-30 anni e mi dicono ma io non posso fare un mutuo perché qual è la banca che mi dà dei soldi non sapendo se io fra due anni guadagnerò pure è stata una rivoluzione psicologica epocale che rende la gente insicura arrabbiata e spaventata e poi come sapete l'opposto dell'amore non è l'odio l'opposto dell'amore è la paura quando io infatti non penso che l'Italia sia un paese razzista e non penso che gli italiani odino gli extracomunitari penso che ne abbiano paura ne hanno paura e perché hanno paura perché stanno male stando male tutto ciò cioè se tu stai bene a casa tua apri le porte di casa tua fai entrare gli amici fai una festa ma se tu non hai il frigo vuoto e non hai riscaldamento qualunque rumore nel condominio ti guardi dallo spioncino dicendo oddio che succede cioè noi viviamo un po' in questo clima e quindi è davvero io penso che se non ripartiamo da un cambiamento forte economico che ridia sicurezza alle famiglie anche il problema dei migranti non lo risolviamo perché adesso abbiamo messo un tampone ma questi sono fenomeni epocali cioè non penso che li fermiamo in questo modo non facciamoci delle illusioni allora una cosa che per me come punto di riferimento è sempre stato negli ultimi 25 anni quando ha avuto modo di cominciare a lavorare con lui è stato Umberto Eco e nelle bustine di Minerva che che Eco scriveva prima settimanalmente negli ultimi anni quindicialmente lui affrontava anche temi di questo genere beh io ricordo quando ci fu diciamo la prima grossa invasione dell'Albania in Italia soprattutto nelle coste della Puglia della Calabria e noi dice guardate che noi ci troviamo di fronte non è oggi ma fra 5, 10, 15 anni a fenomeni giganteschi di invasioni perché questa è la tendenza e così anche su altre cose il fatto di non avere la capacità di analizzare prevedere organizzare non risolve perché è difficile sicuramente questa è una nostra carenza pensa alla tecnologia ma voi vi rendete conto quanti lavori fate non pagati che vengono venduti come servizi e che hanno tolto lavoro agli altri cioè andate a fare il bancomat o fate la vostra commissione con la chiavetta sul conto della banca facendo quello inevitabilmente state facendo il lavoro che una volta faceva un impiegato andate a fare benzina fate il pieno col self service state lavorando voi facendo il lavoro che una volta faceva una persona cioè vi lamentate per qualche disservizio parlate con un call center che probabilmente vi risponde da chissà dove e in quel caso lì anche lì state facendo in qualche maniera voi prendendovi delle responsabilità e un compito e perdendo del tempo cioè se uno calcolasse quanto tempo della sua giornata dedica a fare cose che un tempo erano fatte da delle persone altre quindi lavori persi da un lato immaginate cosa sarà il futuro con i robot sarà un futuro molto interessante ma la mia domanda è evidente che non ci sarà più se già adesso non c'è lavoro quando ci saranno i robot quanto lavoro resterà e quindi la gente come verrà mantenuta con come si manterrà ma soprattutto come avrà dignità perché poi il lavoro non è soltanto uno stipendio è anche un ruolo sociale è anche un sentirti realizzato nel fare qualcosa allora cosa sarà cioè nella visione meravigliosa ci saranno i robot che faranno tutto e noi ci dedicheremo a fare i pittori o gli scultori o gli scrittori e passeggeremo per camogli mangiando un gelato questa è una visione nobile poi ci sono delle visioni diverse anche non è detto che finisca così quindi è un mondo molto interessante però quello che secondo me noi non abbiamo messo a fuoco come tutte le generazioni di frontiera non ci rendiamo conto che stiamo vivendo un passaggio epocale faccio un altro esempio siamo la prima generazione alle prese col fenomeno del prolungamento estremo della vita una volta non succedeva io faccio sempre la battuta che oggi una volta una coppia si sposava ti prometto che ti sarò fedele per tutta la vita tanto sai che promessa tra guerre epidemia dopo 5 anni almeno uno dei due era morto ma di sicuro per cui adesso tu ti sposi a 25 anni e dici ti prometto tutta la vita vuol dire che per i prossimi 75-80 anni ho altri esempi e qui mi rivolgo alle tante signore in platea le donne fra le mille cose che hanno accumulato adesso si devono occupare non solo del marito e dei figli ma anche di genitori anzianissimi quindi devono fare da un lato le babysitter dall'altro le badanti ed è un fenomeno surreale e nuovo io l'anno scorso poco lontano da qua poco lontano da qui ero in una spiaggia e vi giuro vedo un signore che aveva le vene varicose era un signore molto anziano diciamo che aveva avuto almeno mi tengo basso 75 anni ma forse aveva 80 passati ed era il telefonino che faceva no senti mamma per favore mamma metti devi capire e io lo guardavo e questo signore ha 80 anni avendo ancora la mamma centenaria viva era ancora nella dinamica con la mamma e probabilmente era già nonno lui però nello stesso tempo con la mamma era ancora lì che discuteva non so se gli chiedeva se aveva messo la canottiera sotto però era per dirvi che questa cosa qui nessuna generazione le ha vissute negli ultimi millenni almeno per quanto noi conosciamo quindi è un mondo noi siamo dei pionieri forse ogni tanto questo è per dire anche una cosa bella però forse dovremmo accorgercene quando ci viene da lamentarci cioè sempre quando ci viene da star male dovremmo però anche vedere recuperare un sentimento che abbiamo perso la curiosità io faccio spesso questa domanda alle persone che incontro e la faccio anche a voi la faccio anche a te anzi la faccio a te Danco quando è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta pensaci cioè da bambini tutto quello che fai è la prima volta non che lo fai ma quando è stata l'ultima volta nella tua vita che hai fatto qualcosa che non l'avevi mai fatto prima pensaci passato molto tempo non pensi che questo sia diventare non è il tuo caso ovviamente ma però diventare vecchi vuol dire questo smettere di fare qualcosa per la prima volta finché tu hai la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo di provare di vedere nella porta che si chiude la finestrina che si sta aprendo dall'altro lato quattro anni fa ecco il festival della comunicazione questa gliel'ho alzata per farla schiacciare però è vero ci avviamo lentamente abbiamo qualche minuto ecco l'ultima cosa un quadro di chi siamo chi sono gli altri la società l'Italia le difficoltà i problemi le elezioni c'è qualcosa di positivo di bello che tu comunque stai vedendo di fiducia perché in realtà tutte le cose che hai detto sono vere ci fanno riflettere ci fanno prendere coscienza in qualche modo ci chiariscono delle idee e vorremmo anche vedere se tu vedi un faro forte che ci apre la strada guarda sai che c'era una battuta non so se era Marconi chi l'ha detto vedo una luce in fondo al tunnel ma è il treno che ci sta arrivando contro no non è così voglio dire è una battuta divertente però io invece penso che per quanto riguarda l'Italia io sono sempre convinto che citerò l'ultima intervista di Montanelli guardate vi cito a buon dibattuta ovviamente non li mettete in paragone sono due personalità molto diverse ma allora due cose sull'Italia dette da due arci italiani molto diversi Benito Mussolini ultima intervista alla radio svizzera prima degli ultimi giorni domanda ma governare gli italiani è difficile? risposta di Mussolini no è inutile detto da uno che ha fatto il dittatore per vent'anni nessun altro mai ha avuto il potere che ha avuto lui la dice lunga sull'Italia e Montanelli nell'ultima intervista che diede in televisione ad Alain Elkahn nella sua rubrica e Alain Elkahn gli chiese ma tu vedi un futuro per l'Italia? e Montanelli disse no l'Italia non ha futuro ma gli italiani sì gli italiani sono fantasci se la caveranno ovunque conquisteranno il mondo ma l'Italia come stato italiano proprio perché noi non abbiamo questo senso dello stato se non in quei tre minuti in cui cantiamo l'inno di mameli insieme ai calciatori ma è l'unico momento l'Italia non ha futuro ma gli italiani sì e io aggiungo che se noi fossimo una scacchiera i tedeschi sono le torri che vanno dritti da un lato i francesi magari sono i pedoni noi siamo il cavallo noi facciamo sempre la mossa che non ti aspetti e chiunque lavori in una struttura internazionale italiana mi dice questo gli stranieri non hanno capacità di fronte a un problema dicono il nostro modo di procedere prevede questo quindi si bloccano invece l'italiano vede subito c'è un muro lo scavalco di passo intorno è il nostro talento e quindi questo ci permetterà sempre di cavarcela come italiani come Italia penso che avesse ragione Montanelli la politica il paese non ci aiuterà mai gli italiani secondo me torneranno a far grande l'Italia contro l'Italia cioè lo faremo contro cioè di nascosto dalla parte sbagliata perché è l'unico modo non facciamoci illusioni è meglio conoscerci però io sono ottimista perché vi posso dire quello che noto di positivo è comunque che nonostante la crisi nonostante tutte le cose che abbiamo detto c'è ancora io me ne accorgo dalle lettere che ricevo c'è ancora una voglia ad esempio di bello di belle storie una voglia di credere in un mondo migliore cioè c'è ancora questa molla la voglia di entusiasmarci c'è ancora è una molla che abbiamo dentro a forza di scattare a vuoto rischia di rompersi ma per adesso ancora funziona io dico solo bisogna stare attenti a non farsi ingannare da qualche qualcuno che è qualche suonatore di piffero che ce la fa suonare per i motivi sbagliati che ce la fa scattare per i motivi sbagliati ma la voglia di emozionarsi e di entusiasmarci io guarda me ne accorgo quando scrivo dei caffè d'amore per esempio ho scritto una volta ho scritto un caffè in cui facevo ma ancora questa settimana ho raccontato la storia di un imprenditore di un imprenditore di Pordenone un meccanico aveva un'officina era single non era sposato però aveva fratelli madre e andando quando ha scoperto ha pensato a solo 39 anni di avere un male incurabile ha fatto testamento e ha lasciato l'azienda ai suoi dipendenti ecco io trovo che un paese questo paese ha ancora questa roba qua l'Italia è anche questa gli italiani sono anche questa cosa qua grazie Massimo Gramellini grazie infinite volevo volevo solo dire una cosa importante perché la presenza di Massimo Gramellini qua oggi no non era scontata per una serie di impegni eccetera però lui è così affezionato al festival così affezionato a voi no è così rispettoso degli impegni che è partito stamattina all'alba da Torino per venire appositamente qui e adesso ritorno a Torino per gli impegni grazie Massimo Grazie mille sicuro grazie mille grazie mille Grazie a tutti.